Appassionato in calisthenics, ben ritrovato, io sono Claudio. Oggi ti faccio vedere degli esercizi alla sbarra per imparare ad attivare, a rinforzare e mobilizzare i muscoli delle scapole e delle spalle. È un aspetto questo molto importante perché ci permette di imparare a fornire quel supporto stabile alla spalla, che è un'articolazione delicata, quando andiamo a eseguire gli esercizi o le skills più complesse nel calisthenics. Allora, il primo, vi faccio vedere nello specifico due varianti. Dobbiamo fare semplicemente delle scavollate alla sbarra, quindi una roba di questo genere. Da qua devo, a braccia distese, devo solamente far lavorare le scapole, quindi abbasso, lascio andare. Abbasso, lascio andare. Abbasso, lascio andare. Una variante molto piuttosto è quella eseguita ad un braccio. Mi raccomando però, prima di prodare, come sempre, delle versioni più avanzate, perché sennò rischi di farti male, devi sempre assicurarti di aver macinato adeguatamente le versioni di base. Quindi la versione di un braccio, ci stacchiamo, ci stacchiamo, cerchiamo sempre di mantenerci ben stabili. Quindi, da qua, uno, due. Uno, due. Uno, due. Stessa cosa dall'altra parte. Quindi, da qua. Abbasso, lascio. Abbasso, lascio. E questo è decisamente più infinito. Bene, questo esercizio lo puoi applicare, lo puoi eseguire nella fase di warm up, quindi prima di approcciare poi le esercitazioni di potenziamento vero e proprio come forma appunto di riscaldamento preliminare. Con questo è tutto. Corri ad allenarti. Ci vediamo prossimamente. Ciao. Ciao.